Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e buon Natale. Buon Natale da Angelica De Rosa e da Marco Trovato. Allora, siamo qui per il programma La magia del Natale, ideato e condotto da Marco Trovato e Angelica De Rosa e ringraziamo la produzione Cosmo Aero 87 TV, con la regia di Jenny Perugino, l'audio di Eugenio Perugino e l'operatore camera Camillo Isacco. Bene, siamo qui per alietare la serata con dei diversi artisti che ci presenteranno le loro canzoni, ci sarà chi chiaramente canterà un inedito, chi canterà una cover, insomma un po' di tutto per fare una felice serata, per passare un po' di tempo insieme. Il primo ospite lo annunci tu Angelica? Certo, il primo ospite è una persona un po' speciale, poi dopo vedrai. Va bene. Chiamiamolo? Chiamolo. Francesco Nobis. Benvenuto Francesco. Buonasera. Mettiti di centrale, vieni Francesco, vieni. Allora, Francesco, cosa ci porti? Esatto, buonasera. Allora, io stasera vi porto una cover di Francesco Merola e di Valentina Stella. Bellissima. Allora, il brano a parte di Francesco Merola l'interpreto io. E il brano femminile, cioè la parte femminile, poi chi l'interpreta? La parte femminile è una grande sorpresa. Ah, quindi ci porti una sorpresa. Attendiamo. Francesco, io ti interrompo perché so che tu sei prossimo per un lavoro discografico. Sì, penso di marzo che uscirà il cd nuovo. Benissimo, quindi ti facciamo gli auguri anche per il tuo prossimo cd. Grazie. Vogliamo ricordare gli autori e gli arrangiatori di questo cd? Sì, allora, Marco Trovato e Gianni Renzi. Al quale mandiamo un bacione Gianni Renzi. Ciao Gianni, ci sei da casa. Va bene, a questo punto non ci rimane che ascoltare il tuo brano. Va bene. La tua cover, scusami. Fin titola? Fin titola? Biente Mara. Biente Mara. Va bene. Vi regalo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Niente, il brano si intitola ancora un'altra volta, lo ascoltiamo. Per tutti i bambini. Buon aspetto. Signori, toni forte. Grazie. Grazie a tutti. Che battito nel cuore, non riuscivo più a parlare. Mi tremavano le mani. Mentre quel pancino piano, piano per crescere, io ti accarezzavo. Per sentire il cuore, non riuscivo più a parlare. Quando è nato, non riuscivo più a parlare. E' stato magico per me, ancora un'altra volta, mi sono innamorato. Hai fatto il centro al cuore, sei l'unica emozione. Sarai la prima donna, sarai tutta la vita, sarai l'amore di papà. Sei l'unica, sei l'unica, sei l'unica, se l'unica, sei l'unica passione, non sarai mai dolore. Se mi sento triste, mi basterà guardare. E' meglio che i tuoi sinceri, mi fanno impazzire. E' il soffriccio che venga a te appavare. Quando un giorno crescerai, io poi diventerò ancora più geloso. Io ti guarderò ogni istante, e sarò io a decidere questa tua vita. Sarò l'incubo peggiore, la tua anima del cuore. Perché sono il tuo papà, ancora un'altra volta, mi sono innamorato. Hai fatto il centro al cuore, sei l'unica emozione. Sarai la prima donna, sarai tutta la vita, sarai l'amore di papà. Sei l'unica passione, non sarai mai dolore. Se mi sento triste, mi basterà guardare. E gli occhi tuoi sinceri, mi fanno impazzire. E' il soffriccio che venga a te appavare. Non sarai mai dolore, se mi sento triste. Mi basterà guardare. E gli occhi tuoi sinceri, mi fanno impazzire. Io soffriccio che venga a te appavare. E gli occhi tuoi sinceri, mi fanno impazzire. 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 bravissima veramente commomente ho pensato che io pensavo una cosa che l'amore per una donna è grande però sia da parte della mamma che da parte del papà l'amore per i figli è immensa è una cosa molto rara io non sono bravo diciamo con le parole verso mia figlia non dimostro tanto sono una persona un po' chiusa però diciamo che sono bravo con la musica a dimostrarlo quindi le ho dimostrate con queste parole confermo la tua teoria quando sono autore quindi lo sai va bene io vi ringrazio grazie per l'ospitalità buon Natale anche a voi fate buone feste si lavora tanto in questo periodo e alla prossima ciao Tony allora adesso presentiamo il prossimo artista dobbiamo dire che è un attore tra l'altro non è solo un cantante di cui una è il Gomorra Gomorra la serie più seguita nel mondo è Mare fuori e altre che chiaramente poi ci dirà lui stesso vuoi presentarlo tu? certo ecco a voi Genni Rea applausi ciao Genni allora Genni cosa ci porti? allora io vi porto un brano che sta andando pure un sacco di successo su YouTube che è Amore Amore Mi siamo quasi a 52.000 in un mese parla col microfono altrimenti si sente poco e nulla vi porto questo brano che vi ripeto Amore Amore Mi che è in 52.000 visualizzazioni in un mese ottimo vogliamo ricordare gli autori e gli arrangiatori? sì Marco Trovato ah non è conosciuto eh il signore è qui con me Marco Trovato Gianni Rezzi non pensavo di arrivare a tutto ciò perché un artista sconosciuto come me arrivare a 52.000 voglio dire in pochi mesi è tanta roba ma tu sei già un attore però facciamo così vuoi sapermi il tuo regalino quindi grazie a nome dei bambini e poi magari ci racconti qualche altra cosetta qualche novità qualche news mettiti centrale in mezzo a noi senti Jenny ci sono prossime novità cinematografiche a prescindere da quelle musicali ci sarà qualcosa per il futuro sicuramente adesso è un po' ferma la cosa perché mi sto dedicando ad altro la musica la musica perché è quello che a me piace tanto ci provo magari ci provo va bene noi ti facciamo i nostri più sinceri auguri in bocca al lupo un po' No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no trasmettere innanzitutto un bel sorriso a tutte le persone regalare questa bella emozione questo bellissimo brano scritto da Marco Trovato e Gianni Renzi e la presento qui in questa meravigliosa emittente non ci resta Francesco Renzi 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 bellissima canzone ti ringrazio ancora di tutto grazie a te grazie a te e approfitto di mandare anche un salutore all'arangiatore di questo meraviglioso brano Pino Tecarlo che ha fatto la musica Pino un bacio forte da parte mia e anche da Renzi tutti e due Renzi Gianni Francesco Renzi grazie a tutti and Clone Buon fine anno, felice anno nuovo che porta tanta serenità a tutti quanti, va bene? Noi ci salutiamo, ciao Francesco, è stato un piacere. Bocca al lupo. Francesco Renzi, Angela cara, adesso c'è un artista di cui tu non conosci, questa è una sorpresa, è una cosa che ti faccio io, l'artista che tra poco ascolteremo con il brano, prego la regia, provare già il brano, che è l'ultima volta, l'artista che canterà in questo caso sei tu, Angelica De Rosa. Angelica De Rosa, l'ultima volta. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Che onore. Come state? L'onore è tutto mio. Marco, io ti ringrazio tanto tanto. E di cosa? Questa è la prima uscita che ho fatto. Dopo un po' di tempo. Dopo un po' di tempo e tu mi hai colpito allora a volo. Marco Trovati, come stai? Bene. Benissimo. E tu a metà sta bene, non c'è di sogni che io parlo. E questa televisione io ne ho la prima volta. Canale 87. Ah, che bello, voglio dare tanti auguri che arriva l'Apice. Questo è il mio piacere, che almeno ci vediamo spesso. E tra l'altro, scusate che ti interrompo, tra l'altro, volevo dire, perché non l'ho detto prima nei precedenti artisti, lei giustamente è cantante, io sono un musicista autore. Abbiamo voluto scimentarci. Siamo nelle vesti di presentatori però, ci siamo scimentati. Diciamolo, due cd proprio interi di voi, tu e Marco Trovati e Gianni Renzi. Ci siamo divertiti, ci siamo divertiti. E una canzone mi ha fatta buscanuari sotto. Una bella canzone. Questo vuol dire che posso approfittare di qualcosa anche io? Eh, eh, eh. La canzone porta come titolo ad Aschietta. Che titolo? Perché la gente si è cattiva. E voglio dire ancora un'altra cosa, questo Covid ci ha rovinato. Vero, vero. Già erano male lì. Ma dicevamo il Covid, già erano. Eh, c'erano già, ma ora sono aumentata, attenzione. Quando ti vieni una mattina, mamma mia, ti abbracciano e ti facciano, come stai, come ti hai fatto bene, come gira i spavoli. Ah, buongalata. E sentite bene queste parole, eh, tratta da Marco Trovato e Gianni Renzi. E qualcosa bolla in pentola sicuramente. Anno nuovo. Anno nuovo. Anno nuovo. Vita nuova. Signori, non sia ferri per voi. Grazie. Come? Come ti chiami? Angelica. Mamma mia, tu sei un'angela che ci so se lo sia. Bella, 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 bella. Grazie. Eh, grazie. Ho saputo scegliere. A me è una cosa buona, ma ci faccio la vita. Vi voglio bene. Anche noi, carissimi. Mi raccomando, a naschietta. Non sia ferri. Dico bene? Ho voluto postare anche io un sorriso a qualche bambino. Lo rimetto io qua. Ai bambini meno fortunati. Gli auguriamo tanto bene, alle mamme, a tutto. Grande. Va bene? Grazie per voi. Anno schietta. Ho tutto in malalingua. Anno schietta. Non sia ferri. Ado schietta. Ado schietta. Con croce ogni mattina, agendo un tonino, appena dovrei rimassare. Non voglio che ha gelosia, non voglio che antipatia, camminem, senti guarda. La bambina nuca carnata, è a re da bambina, parla. Ado schietta. 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 Con manobbombe natale. Una forte vita fa. Ado schietta. Ma ce bella e gialla, varen e vapa vall, coppiffa nesta sentriga. Spalla da mattina e sera, tanta gattina na fa. Ado schietta. Ado schietta. Per quanto va da m'enxiuso da red Adaschietta, adaschietta Per tutti i voti da m'ho murmurato Minimadonia San Pedro Che pagansi ma c'ha fa Mentre voi va si distuva Inda che sa pesca n'at Adaschietta Adaschietta Com'una bombe natale Una poza vita Adaschietta Adaschietta Minimadonia San Pedro Che pagansi ma c'ha fa Mentre voi va si distuva Inda che sa pesca n'at Adaschietta Adaschietta Non sia ferri Non sia ferri Grazie Grande Grazie Ci voleva Ci voleva una cansa di cina così ritmata Ma che non ha schietta Questi che non si fanno i fattlor Per il ramadine a sera Ma vedete che ti fanno i fattori Fate come dice Non sia ferri Non ci fanno Ma ben si fanno l'amore Sì sono d'accordo Sono d'accordo Ok Grazie 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 a te Salutimi tanto 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 A Gianni Salutiamola insieme Ciao Gianni Buon Natale Un bacio a tutti i bambini Che soffrano Alle famiglie Preghiamo Preghiamo Pregare fa bene Ciao Buon Natale Buon Natale Non sia ferri Ciao Non sia ferri Buon Natale Buon Natale Cosmo R87 TV Vi augura buone feste Cosmo R87 TV 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo molto conosciute. Cioè io stavo chiedendo, ho detto ma secondo me è il figlio, il fratello, un parente? Ti posso già confermare che non c'è parentela, solo omonimia. Allora, prossimo artista Enzo Calone. Buonasera, buonasera. Buonasera Enzo. Questo è il pensiero di Natale. Mettilo sotto l'albero. Grazie da partire. Mettilo sotto l'albero. Attento alle palle. Attento alle palle. Enzo, cosa ci racconti? È tutto bene, si va avanti, ho fatto un nuovo progetto di nuove canzoni. Adesso vado a cantare un nuovo brano che ho fatto a breve tempo dall'autore Salvatore Strada, che salutiamo. Andiamo un bacio, ciao Salvatore. E Sandro Sgambati, come arraggiamenti. Ciao Alessandro, un bacio a te e famiglia. Anzi, a tutti e musicisti. Facciamo gli auguri di buon Natale al pubblico. Buon Natale, buon Natale a tutti e a tutti coloro che ci seguono da casa. Allora, come si chiama il brano che ci presenta? Il brano che presento va prima tu. Buon Natale, buon Natale al pubblico. Buon Natale, buon Natale al pubblico. Buon Natale al pubblico. Buon Natale, buon Natale al pubblico. Buon Natale, buon Natale al pubblico. Se tu domande sti bagazzi e mari Cancirli tutti i messaggi E non pensa E di sfide e non ti esce mai a guarda Si va fa morre non dici resi E sta ta corta non passi o non mi Ma brimme dù e dopo shenghi E sta ta corta ma chi incontra pari E non ti esce mai a guarda Si tu domande sti bagazzi e mari Cancirli tutti i messaggi E non pensa E di sfide e non ti esce mai a guarda Si va fa morre non dici resi E sta ta corta non passi o non mi E di sfide e non ti esce mai a guarda E di sfide e non ti esce mai a guarda E di sfide e non ti esce mai a guarda Enzo Calone, Enzo Calone, tra l'altro amico di mio cugino, di vecchia tata. Senti Enzo, vi facciamo gli auguri di Natale a tutti. Facciamo tantissimi auguri e buone feste a tutti coloro che ci seguono da casa. Enzo Calone. E rieccoci qua, un'altra cantante, potrei dire tante cose su di lei. E dimmene una. Bravissima, bellissima, mi ha sempre presentata. Ah, una mezza idea allora. Tocca a me, ed ecco a noi Daniela Deniz. Daniela, che onore. Buonasera. Buonasera. Ciao Daniela. Auguri, buonasera, buonasera a te. Buonasera a tutti. Sempre alle palle. Se lo rompere le palle di Natale perché... Ragazzi, che mi dite, tutto bene? Tutto a posto? Si va avanti. Felice di essere qua con voi innanzitutto. Felicissimi noi. Non mi sarei mai aspettata di essere vostra... Tu, che vrei io. Diciamola questa cosa, facciamolo sapere alle persone. Noi di consueto siamo propensi a scibbare, ad andare a mangiare qualcosa del locale dove lavora Daniela Deniz come piano, bar solista, che è il locale, possiamo anche dirlo, Mamma Rosa dell'Alfonso. Si, a Barcaturo, si. E quindi, spesso e volentieri, lei ha cantato delle canzoni. Certo. E mi è toccata presentarla, con molto piacere. E questa sera invece è presentata tu. Speriamo che è andata bene. Benissimo. Ti ringrazio. Bene, Daniela, cosa ci fai ascoltare? Io faccio ascoltare uno dei miei inediti, l'ultimo che ho fatto, si intitola Emanna Moricchiù. Bella. Vuoi sapere gli autori, maestro? Sì, autori e arrangiatori. Perché gente. Allora, questa volta non sei tu. Visto? Sei tu, questa volta c'è Francese Arienzo. Allora, un bacio forte a Francesco Francese e a Gaetano Arienzo. Un bacione, un saluto e auguri anche a loro. Nino Danisi, in arte. Sì, sì. Sai perché si chiama Nino Danisi? Te lo svelo adesso. Sì. Dai, dimmelo. Non lo so. Perché lì prima di te cantava. Era un giovanotto, era piccolissimo, aveva 16 anni. Io me lo ricordo, veniva da me a Via Pomeo e cantava. E cantava anche benissimo, tra l'altro. E' attualmente uno dei più bravi arrangiatori e autori. Arrangiatori, sì. Va bene, allora ti lasciamo cantare. Ve la faccio ascoltare. Daniela Dennis. Grazie. Grazie a tutti. 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 Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. di questa bellissima immittente. Grazie a tutti. 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 KOSMO R87 TV vi augura buona festa. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eccoci qui, come tutte le cose belle finiscono, quindi a questo punto siamo in chiusura e approfitto per salutare la produzione di Antonio Perugino, della Cosmo Aero 87 TV, l'ergia di Jenny Perugino, audio Eugenio Perugino e l'operatore Cosimo Isacco e a questo punto presento l'ultimo artista che non a caso ha fatto tutta la serata qui insieme a me, mi ha fatto compagnia ed è stata un ottimo aiuto. La prossima artista è Angelica De Rosa Si non vuoi me farci, lasse me perdere, me vuoi convincere, ma è tutto inutile, ormai non ti credo più. La prossima artista è Angelica De Rosa Eugenio 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 Eugen Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.